SEDICESIMO CAPITOLO, LA CRIPTA DEL TESORO Prima era Caccia del Tesoro, adesso la Cripta del Tesoro E lei con la torcia andiamo a esplorare questo posto Certo, proprio utile te con la torcia Nei giochi vecchi quando ci sono questi visuali nello stretto non puoi muoverla Proprio devi seguire quello che fa il gioco Eh, a sapello Vabbè, non lo so Non qui Ci sono dei numeri romani nell'angolo della mappa di Drake 2, 5, 7 2 Io resterò qui di vedetta mentre tu cerchi un modo per passare 5 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 15 15 15 16 16 17 Quattro di qua Cinque sopra Tre Ma tre c'ha vita breve Vero? Quindi io vado di qua Questa può tornare utile E dai Vediamo cosa combina Sta succedendo qualcosa Cosa Questa è molto utile Ok Sali Che bello dover passarete lì inutilmente Bellissimo Magari se non caschi mi fa un favore Grazie Ops Tre di qua Non serve che vai piano Aia Sali è sparito Niente Ma io qua dove devo andare? Chiedo Ok Chiaro che qua sopra non ci posso andare Proviamo così Ok Ha funzionato Per ora funziona Su Qua c'è l'uno Qua c'è l'uno e il due Andiamo verso il due Cinque Aia Ok Ok Ehi Ce l'ho fatta Sì Aspetta dirlo Come sei coglione Quanto sei coglione Ma ci sarà uno più coglione di te? Io non credo Adesso sono cazzi di nuovo Questo si chiama culo A casa mia Ok Poi Dove? Non mori eh Cinque Cinque di qua Ok Si è aperta la finestrella Non male Cerca un modo per aprire questo passaggio Io aspetto qui Vabbè Te come sempre Non fai mai un cazzo E si era capito Però è tanto capire Come si apre Quel passaggio lì Così Ok Ma che diavolo Oh la la Dove andiamo però? Più che altro Da dove è tenuto sto ponte Ok Ok Qua c'è Il tre Però qua c'è anche una catena Che può essere usata Perfetto Qua non c'è nemici Ma tanti Cazzi in culo Ma che Adesso scende E apre il cancello Perfetto E anche il ponte E anche il ponte elevatoio Grazie Nate Ste bande Orizzontali Non le capirò mai ragazzi Ok che è un gioco vecchio Ma Non c'hanno veramente senso Cioè ce l'hanno Se fai tutto il gioco così Altrimenti veramente no Ehi Bule L'ultimo a restare in piedi Si prende l'oro Tu hai perso Parli prima? Ah Vuoi la guerra eh Ok Scappa un secondo Scappa Scappa Preso Who's next? Eh me Se non mi sposto Buono Eh la peppa Ah che fai Esplodire da solo? Che peccato Attenza Che poi se non esplodo io Spostati Oh E nonostante tutto Mi sa che non è morto eh Ah è uscito Razo Man Ok Perché vai a parare Dall'altra parte? Che senso c'ha? Eh Ok fuori Razo Man Proiettili qualcuno Qualcosa? Sì Dove sei coglionazzo? Un altro Razo Man Ciao Ok possiamo andare dentro la torre Forse no Perché c'è da saltare Credo ci sia una specie di scala meccanica Quassù Non vedo niente Ti continuo a indicarmi sopra ma Io non vedo Aspetta forse Aspetta forse Ma è inutile che continui a indicarmi lì Io non ci vedo un cazzo E' il problema è che là io ci devo andare Cominciamo Che due coglioni Da qua siamo arrivati Da qua siamo arrivati Che a far serio signori Che a far serio signori Che a far serio signori Fuori Razo Man Fuori Razo Man Ma un invito punto Oh Aspetta 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 Amore aspetta C'è Razo Man No Razo Man no Dove spara Razo Man Da laggiù Ecco il bastardo Fuori Razo Man Ricarica E andiamo con i prossimi Fuori Ok ce ne siamo evitati un pochino Il che non è male No la K47 no Ormai acqua passata la K47 Bisogna usare l'arma migliore Ma anche l'arma che è più di tendenza Nel gioco nel momento Perché se no ragazzi E' inutile Usare un'arma per cui i proiettili Non esistono praticamente Qui non c'è niente Come al solito C'è un cadavere E' andato male eh Drake Non l'ha mai trovato È morto qui Addio grandi cose Ha sprecato la vita Per niente Nate Sei pronto per andare Eh Dovemmo andare per forza Mai come ora Deve esserci una via d'uscita Per forza E sta nel capitolo 17 17